Dario Zotti è un operatore della Caritas della parrocchia Santa Maria degli Angeli e Santa Chiara di Assisi di Monteriuscillo, la parrocchia affidata al sacerdote Don Enzo Di Meo e si trova tra l'enorme insediamento di case popolari di Monteriuscillo, una situazione sociale già difficile in precedenza e adesso la crisi si sovrappone a una crisi latente che dura praticamente dall'inizio della costruzione dell'insediamento di Monteriuscillo. Dario, cosa è cambiato nelle ultime settimane? Praticamente siccome c'è una non possibilità di andare a lavorare anche per i lavori più modesti, più semplici che sono quelli che possono fare le persone qui che sono nel quartiere, c'è stato che stare a casa, che veramente hanno fatto bene a farci stare a casa perché se no il virus si sarebbe diffuso ancora maggiormente, queste persone però hanno delle gravissime difficoltà adesso economiche perché per mantenere le famiglie, per mantenere i figli ci vogliono cifre e cifre per le bollette, per l'affitto, per tutto quello che segue e allora praticamente loro trovandosi in casa bloccati non hanno più nessun tipo di entrata, neanche minime e c'è una sofferenza da parte soprattutto di chi tiene bambini e per questi bambini che soprattutto dobbiamo intervenire. In questa fase di emergenza cosa state facendo anche in base all'esperienza maturata in questi anni, anche in collaborazione con la Caritas di Oceana, con i medici che vi sono stati vicini proprio per la cura e dell'assistenza alle persone bisognose del quartiere. Abbiamo ovviamente fermato prima tutte le attività perché come di consueto noi seguiamo quelle che sono le direttive dei problemi che dice chi ci dirige, però vedendo questa situazione qua abbiamo dovuto chiudere innanzitutto l'ambulatorio medico che è un dispensario in effetti, un dispensario di medicinali dove i dottori praticamente si accertano di che cos'è il paziente, la persona oppure non hanno possibilità di comprare i farmaci e noi interveniamo. Poi abbiamo dovuto fermare le docce che facevamo per i senza tetto, poi arrivavano i pasti cucinati dalle persone, dalle famiglie la sera per questi senza tetto che mangiavano anche là dopo la doccia, abbiamo dovuto fermare tutte le attività insomma, perché praticamente non era possibile rischiare di far ammalare gli operatori che poi con questo virus si muore. C'è una situazione molto delicata, per cui ho detto adesso lavorando in sicurezza, perché ho molta esperienza, ho fatto due terremoti, due bradesismi, il colera, cioè più ne ha più ne mette, ora sono 25 anni che sto qua, praticamente ho detto in sicurezza, ho chiesto aiuto, ci sono delle persone volenterose, si sono messe a disposizione per aiutarmi due ore e la mattina e in massima sicurezza distribuiamo quelli che sono i viveri, non solo a quelli della nostra parrocchia, ma a chiunque viene e dice sto disperato, noi non guardiamo le parrocchie insomma, non sto spiegando. È una cosa interessante anche quello che voi fate per i senza tetto sulla zona non soltanto di Monte Ruscillo, ma anche di Licola sulla strada domiziale. La parrocchia duro fino al villaggio Coppola, sì. State continuando in questa fase? Nella fase iniziale sì, adesso giustamente io non ho chiesto collaborazione a nessuno, perché ognuno deve sentirsi di fare, soprattutto in questa fase, il cristiano, perché noi lo sappiamo che noi siamo il Tempio, noi siamo quelli che siamo, le persone che dobbiamo portare il Signore agli altri, quindi bisogna farlo sempre in assoluta libertà. Allora a quel punto ho trovato delle persone molto valide che sono andate a distribuire la frutta, la verdura, quello che c'era stato al Banco delle Opere di Carità. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare sempre la Caritas di Ocesana, perché se non ci aiutasse lei noi saremmo fermi in questa delicata situazione. Invece anche ieri ho avuto un contatto telefonico con sorella Eleonora, che mi ha garantito che mi arrivano le mascherine, gli omogenizzati, c'è l'emergenza che in questo momento ci sta qua. Dario, anche dalla tua esperienza in questa situazione, qual è l'appello che tu vorresti fare ai fedeli, ai cittadini, agli abitanti del quartiere per collaborare, per cercare di aiutare le famiglie bisognose? Sì, in questo momento soprattutto c'è bisogno di viveri e soprattutto c'è bisogno, come al solito, dei biscotti per i bambini, i pannolini, perché noi abbiamo cura soprattutto dei bambini. In molti casi noi li aiutiamo per l'anello debole della famiglia, che sono i bambini. Voglio dire, l'importante è stare tutti a casa, non vi scordate questa cosa, perché veramente qua non si scherza più, anche oggi c'è stato un altro contagio a Pozzuoli, stiamoci a casa. Poi quando noi decidiamo di operare, perché siamo dei cristiani innanzitutto, dei volontari come me, io sono un semplice volontario, non sono nessuno, cioè li facciamo perché veramente noi siamo il Tempio del Signore, siamo quelli là che dobbiamo portare la testimonianza in questi momenti qua. Voglio dire, in tutti i momenti siamo bravi a essere cristiani, ora lo dobbiamo essere principalmente. Ad esempio io voglio spiegare come effettua la distribuzione. Allora io faccio venire una famiglia per volta, solo il capofamiglia con guanti e mascherine, dal deposito prepariamo la spesa, nel momento in cui arriva la famiglia non si avvicina, mettiamo fuori al cancello la spesa che deve ritirare il capofamiglia, il capofamiglia ritira la spesa senza che noi abbiamo nessun tipo di contatto con lui e va via. Io richiamo telefonicamente la famiglia successiva e procediamo, cercando in tutti i modi di non prendere questo virus. Va bene Dario, ricordiamo tu sei un operatore della chiesa di Santa Maria degli Angeli e Santa Chiara di Assisi di Monte Ruscello, la parte diciamo bassa di Monte Ruscello, confinante con quarto in effetti. Esatto e voglio ringraziare veramente perché da noi abbiamo un sacerdote Don Vincenzo Di Meo che mi permette di operare innanzitutto lui perché se non c'è il parroco dietro e che ti dà la collaborazione e non si va da nessuna parte. E poi vi ripeto, voglio ringraziare veramente la Caritas di Ocesana perché c'è sempre vicino, se no ci saremmo già fermati. In questo momento siamo in un'emergenza totale, quindi è il momento di fare i cristiani, fare i cristiani e anche starsene a casa quando ce lo dicono. Va bene, va bene Dario, ti ringraziamo per la tua testimonianza. Grazie mille. Ciao a tutti.